Atti capitolo 4 versetto 32 E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima Quindi non solo un'anima Non solo un pensiero in Cristo Ma un solo cuore Quindi qui è descritto le due parti Non era una sola carne perché se no era un'orgia Non poteva dire questo ovviamente Solo nella unione uomo e donna c'è l'unione della carne Solo nella unione di uomo e donna c'è l'unione della carne Ma qui c'era un solo cuore e una sola anima E di chi sta parlando? Di tutti quelli che avevano Di tutti quelli che avevano creduto Quelli che erano nati di nuovo Quelli che erano battezzati poi in acqua E poi erano stati battezzati in un solo spirito Nel corpo di Cristo Un solo spirito Un solo cuore Una sola anima Una sola alma Un solo pensiero Una sola forma di pensare Cioè non pensiero perché tutti avevano lo stesso carattere Non pensiero perché tutti avevano il stesso carattere Ma avevano il medesimo obiettivo Che era l'obiettivo del regno Avevano un solo regno Avevano un solo regno sopra di loro Avevano un solo re sopra di loro Il re dei rei, il signore dei signori Il capo della chiesa Il corpo suo Il re dei rei Il signore del signore Il jefe della iglesia Questa è la chiesa Esa è l'iglesia Erano tutti di un solo cuore E una sola anima Erano tutti di un solo corazon E una sola alma Potremmo già fermarci qui ragazzi Già qui non potremmo parare Se io mi fermo qui Se io mi paro qui E cominciamo a fare cura personale di ognuno E cominciamo a fare cura personale di ognuno E' come se scopriamo il vaso di Pandora E' come se vamos abriendo il vaso di Pandora Verrebbe fuori di tutto Saldría di tutto Sia perché alcuni nello spirito Hanno bisogno ancora di essere liberati Che sia perché alcuni nel spirito Todavía necessitano essere liberati Non mi sto riferendo alla salvezza No hablo della salvazione Perché se hai accettato Gesù sei salvato Perché se accettaste a Gesù Già fuiste salvato Amen Ma come dice la parola Il Signore aggiungeva alla Chiesa Però come dice la parola Il Signore le aggregava alla Iglesia Cioè al corpo di Cristo Ossia al corpo di Cristo Tutti coloro che erano salvati Quindi prima venivano salvati E poi venivano uniti nello stesso spirito Fino ad arrivare alla manifestazione Della prima Chiesa del Regno dei Cieli Sulla Terra Quindi un solo spirito Una sola anima Un solo obiettivo Un solo obiettivo Un solo pensiero in Cristo Un solo pensamento in Cristo Un solo scopo Una sola razza Ed erano contentissimi Perché avevano capito Perché avevano entendito In modo loro A sua maniera Quello che Gesù gli aveva detto Lo che Gesù gli aveva detto Io vado a prepararvi un Io voglio prepararvi un Un posto Un lugar Quando l'ho preparato Tornerò a prendervi Quando lo hai preparato Voi a regressare a buscarli Però poi aveva detto anche Quando vedrete accadere queste cose Cioè anche l'avvenuta del Regno Dello Spirito di Dio Significa Che io torno a prendervi Che io vuelvo a buscarli Quindi loro come vivevano Vivevano il presente Già nel futuro Nel Regno Vivevano il Regno Ma dicevano Ora non vi prendo i versetti Se no andiamo poi oltre Ma loro Il loro obiettivo Era quello Che Gesù veniva a prenderli Era che Gesù Volvi a buscarli Perché dice Io vi mando l'altro Consolatore Che resterà con voi per sempre Ma quando ve lo manderò Io vado a prepararvi Poi il posto C'è tutto il discorso E poi tornerò a prendervi E dove sono io Sarete anche voi Gesù le ha salto Il discorso E gli dice Io ora volverei al cielo Le voglio mandare il Consolatore Per prepararle la demora Donde voi saranno E quando sei listo Volverei a buscarli Quindi loro aspettavano Da un giorno all'altro Che Gesù veniva a prenderli Perché La promessa Era già stata mandata Quindi vivevano l'adesso Che era il regno futuro Bisogna imparare questo Per capire Per entendere Quali erano le priorità Della prima chiesa Quali erano le priorità Della prima chiesa Qual era la priorità Della prima chiesa Qual era la priorità Della prima chiesa Andare nel regno Ir al regno E manifestare il regno Sulla terra E manifestare il regno Sulla terra Finché non sarebbero andati Ma manifestare il regno Finché Dio lo permetteva E che veniva poi a prendere Tutta la chiesa Ma Essere pronti Estar listos Cioè Sembra scontato Ma non lo è Sembra così scontato Ma non è scontato Eh Non so È difficile Perché se no Si va a comprare Il supermercato Così ovvio Sembra ovvio Ma non è ovvio Perché molti problemi Di noi cristiani Che viviamo oggi Sulla terra Sono dettati Dalla nostra attenzione Sui problemi Che abbiamo Sulla terra E tutti sono da capire E tutti sono da giustificare Perché io ho quel problema Perché ti hai l'altro problema Ma perché questa è la situazione Perché quest'altra è la cosa Perché quell'altra È una difficoltà Come se i primi cristiani Non avessero questi problemi Come se i primi cristiani Non avevano questi problemi Le persone care Li ferivano La persona che io Queria Lo eria Perdevano lavoro Avevano bisogno Alcuni di lavorare Perdivano il lavoro Alcuni necessitavano Trabajare Gente moriva Anche fisicamente Finiva i loro giorni Gente moriva Fisicamente E si acabavano Sui giorni Ma Gesù È molto chiaro In questo Però Gesù È molto chiaro In questo E Gesù Ci confronta In questo Non c'è verso E Gesù Non si confronta In questo Ve lo dico io Ora non faccio Nomi e cognomi Se lo dico io E non voglio Hacere nombri e apellido Ma Gesù A me Ogni tanto Mi dice Anzi Non è che me lo dice Ogni tanto Diciamo Ogni tanto Ascolto Quello che mi dice Non è che me lo dica Di ogni tanto È che io Di ogni tanto Escucho Ma per te Lorenzo Cos'è importante Lorenzo Per ti Che è importante La tua vita Tu vita La tua casa Tu casa Il tuo lavoro Tu trabajo Il tuo ministero Tu ministerio I tuoi vestiti Tu ropa I tuoi svaroschi Tu brillantes I tuoi figli Tus hijos Cos'è importante Che è importante Qual è il tuo obiettivo Qual è il tuo obiettivo Qual è il tuo obiettivo Sistemare delle cose Arreglare Algunas cosas Benedire le persone Bendecirle Le persone Sì Qual è il tuo obiettivo Qual è la ragione Della tua vita Su questa terra Qual è il tuo obiettivo Qual è la razione De tua vita Sobre questa terra Camminare verso il cielo Camminare verso il cielo Sembra scontato Parese ovvio Ma i giorni Della nostra vita Sono segnati Più dalle vicissitudini Le cose da fare Le soluzioni da trovare Prima delle cose del regno Prima di essere nel posto Dove Dio vuole che noi siamo Prima di essere nel luogo Dio vuole che noi siamo Sì va bene Il Signore ci dice Di essere dovunque Per dare una buona Testimonianza di Lui Sì il Signore Dice di essere Donde vuole Per dare un buon Testimonio di Lui Ascolta delle volte Rola dai la buona Testimonianza Vivere nel regno Io non ho dato Una buona Testimonianza Negli anni A mio padre Però per grazia di Dio Gesù ha recuperato Mio padre Nella fine Della sua Giornata Ma quando io ho deciso Di lasciare il lavoro Quando ho deciso Di servire Gesù Quando ho deciso Che per anni Poi non ho partecipato Alle riunioni familiari Perché avevo un convegno Un ritiro Una preghiera Una liberazione E quindi Non assolvevo A un compleanno A una riunione Degli zii Dei cugini Quando per anni Decidi Non partecipare Alle riunioni familiari Perché avevo un congresso Perché avevo un congresso Secondo voi Che cosa hanno pensato Che cosa hanno detto Su di me Secondo voi Che pensò Mi famiglia E che dijeron Sobre di me Però lì Io stavo con lo Spirito Santo E mi parlava Della chiamata del regno Però io stavo Con lo Spirito Santo E mi parlava Della chiamata del regno Eh se la guardiamo Sul piano religioso Evangelicale Umano Cristiano Umano Non ho dato buona testimonianza Ma io stavo cercando il regno Quindi lì Sono diventato Contradizione Segno Non è sempre una cosa sola Vivere il regno Serve dimostrare Non parole Ma potenza Cioè dimostrazione Della tua scelta Non per un significato Evangelicale Di andare a fare La crociata Contro il gender Ma essere te A fare le opere Del Padre Per la salvezza Dei cuori Invece di stare a discutere Che cosa fa Il delirio del mondo Manifesta il regno Te di Dio Ma non con le parole Che io ho la verità Quindi questo non va bene Quell'altro non va bene Di nuovo Lo spirito legalista Ma invece Manifestare La potenza Allora La prima chiesa Era questo E il gran numero Di coloro Che avevano creduto Era di un solo cuore E di una sola anima E ora Ascoltate bene Questa parola Questa parola È rimasta scritta Perché serve anche a noi Se è stato scritto Dei cinque segni È perché serviva a tutti È perché le serviva a tutti Come abbiamo detto Due domeniche fa Perché se serviva solo Agli undici riuniti Non andava scritto Nella Bibbia Non lo iban a scrivere Nella Bibbia E ha detto tante altre cose Gesù agli undici Ma non sono scritte qua Ora Rileggiamo il versetto 32 Allora Tutti erano di un solo cuore E una sola Anima Nessuno Dite la parola Nessuno E dicono Nessuno Nessuno Diceva essere suo Quello che aveva Ma tutte le cose Erano in comune Fra di loro Allora Io qui Ho un problema Tengo un problema Io qui Ho un problema Io qui Tengo un problema Che significa? Che significa? Dice ma perché L'ha rimasto scritto Questo Poteva evitarlo No? Decimo Era bello Era bello Era bello E il gran numero Di coloro Che avevano creduto Era di un solo cuore E di una sola anima Già stava bonito Donde decise La multitudine Che avevano credito Era di un coraggio E un'alma Punto E già punto E gli apostoli Con grande potenza Rendevano testimonianza Bello Bello E con gran potenza I apostoli Davano testimonianza Hermoso Bello Bello Però questa altra Seconda parte Mi disturba Però questa seconda parte Il 32 Mi molesta A voi forse Non credo Chissà A voi A voi Non credo Sì o no? Sì o no? Sì o no? Non sto parlando Ora di soldi Smettetela Se non ve la date Voi lo schiaffo Vengo io a darvelo Mi levo l'anello Perché vi faccio Meno male ovviamente Ognuno aveva In comune Quello che aveva Ma Questo vuol dire Libertà Perché io Io sono come sono Perché io Sono come sono Ho quello che ho Tengo lo che tengo Qual è il problema? Qual è il problema? Ma sono libero Di avere Le persone con me Sono libero Di avere Le persone con me Stasera Stanoce Vengo ad abitare A dormire Stare due giorni Del convegno E dormire A casa di Teresa Lei va nel panico Ovviamente non finisce La riunione No aspetta Aspetta Teresa E via Va a casa E deve sistemare Tutto quello Che è da sistemare E tiene che arreglar Tutto lo che Hai che arreglar Aspetta Lo giustifica Con Due punti Lo giustifica Con Arriva l'apostolo Llega l'apostolo E bisogna onorare I serviti di Dio E hai che onorare Lo siervo di Dio Lo so che pensa questo Io se che Ella lo piensa Ma va in crisi Se tutto non è Per bene No vengo anche Da Lucianettino Guarda Entra in crisi No perché se viene E vede la situazione Ora come siamo Secondo voi È corretto Questo ragionamento Al di là Della buona motivazione Per onorare Al meglio Il fratello La sorella Más allá Della buona motivazione Per onorare A lo mejor L'hermano La hermana Ma siamo Veramente liberi Però siamo Realmente libri No ma io Non ho posto Per dormire Apostolo Faccio un esempio Che problema c'è Prendiamo un materasso Da qualcuno Lo mettiamo in terra Però qual è il problema Ma possiamo Vieni tra due settimane Volentieri Un weekend Stai da noi Vado a comprare Una materassa Un lettino No però vieni In due settimane Sin problema Io ti ospido Vi faccio un esempio Compro una cama Hago un esempio È molto onorevole Questo pensiero È molto onorevole Questo pensiero Ma è una cosa È bella È bella È bella È bella È bella È bella Ma Non è questo Perché quello che uno aveva Aveva Quello che non aveva Non aveva Ed erano liberi Era un movimento continuo Era sempre un movimento No io come faccio No Come vuoi fare Faccio un esempio Ora faccio un altro esempio Di una persona Che lavora Giorni e notti Di qualcuno che trabaja Dio e notti Che è sempre un queturni Eh ma come faccio io Ora faccio solo un esempio Non è ora una cosa Effettiva Hago solo un esempio Ma come faccio Ad ospitare l'apostolo Che viene E poi gli altri tre ministri Di qua e là Perché sono al lavoro Non ci posso stare dietro Classica frase Però come vuoi fare A ospitare l'apostolo O l'altro ministro Se sempre sto trabajando E non mi posso occupare di loro Va bene in un contesto umano Orizzontale Ma non è del regno Vale a dire Che loro Questo sta bene In un contesto umano Però non del regno Io Non vengo a casa tua Perché io non vengo a tua casa Vengo a casa mia Vengo a mia casa E se te non ci sei E se tu non sei Faccio il mio lavoro Io ho il mio lavoro Se te non hai avuto modo Di pulire la casa Te la pulisco io Se non hai avuto modo Di pulire la casa Io te la limpio Questa è libertà Questa è la libertà Questa è avere tutto in comune Tutto Non parlo dei soldi Ma la prima chiesa Però la prima iglesia Viviva così Viviva così Avevano tutto in Comune Tutte le cose erano in comune Fra di loro Tutte le cose erano in comune Entra loro La casa di Pietro Era di Pietro Ovviamente Quell'altra di Simone O di Giovanni O di Giacomo Era dei loro genitori La casa di Pedro Era di Pedro La di Juan Era in comune La di cada uno Era propria Però tutto Tenivano in comune Non andavano in crisi Io sono quello che sono Se il figlio vi farà liberi Sarete veramente liberi Però egli erano liberi Io so lo che so Se il figlio O sarà liberi Saranno realmente liberi Quante volte Per esempio L'abbiamo detto negli anni Ma cosa più bella Che accogliere i fratelli Le sorelle E se c'è il sudicio Ma è meglio Ma è meglio Il sudicio con l'amore Ma è meglio Il sudicio con l'amore Che vivere Nel Come si dice Nell'antisettico E ognuno lontano Nell'antisettico Asettico No ma io Sennò faccio una figura E se il figlio Ti farà libero In che cosa si applica Erano di un solo cuore E di una sola anima E avevano E nessuno diceva Di essere suo Quello che aveva Quindi cosa voleva dire Che lo aveva Che lo tenia Ma non era suo Era di Gesù Era di Gesù Ma se era di Gesù Era anche del suo corpo Erano liberi C'è il sudicio C'è il sudicio C'è un divano C'è un materasso In un angolo Ma che vuol mettere L'amore e la bellezza Di stare insieme così Allora siamo liberi O ancora non veramente liberi E no ma io Ma io mi faccio Organizzare tutto questo Sai bambini La scuola Poi come fai Ora faccio Un altro esempio Ma come faccio A ospitare quello Quell'altro A dirgli vieni Stasera a cena Ma se tu hai bisogno Di stare con un fratello E pregare E lodare E piangere E sfogarti insieme E che vuol dire Ma come faccio A preparare la cena Poi c'è bambini Da sistemare La scuola Il nuovo Non ci godiamo La libertà Non nos goziamo La libertà Andiamo avanti Seguimos adelante E gli apostoli E los apostoli Con grande potenza Rendevano testimonianza Della resurrezione Del Signore Gesù E con gran poder Los apostoli Davan testimonianza Della resurrezione Del Signore Gesù E grande grazia Era sopra tutti loro E abundante grazia Era sopra tutti loro Cosa vuol dire? Che significa? Erano ripieni Dell'amore Che stavano Reggiano dell'amore Amen Amen Grande grazia Era sopra tutti loro E abundante grazia Era sopra tutti loro Allora dice Eba perché loro erano così C'è la grande grazia No la grande grazia È sopra anche noi È loro che l'avevano realizzata Quella grande grazia Grande grazia Vuol dire Grande amore Grande amore Vuol dire Grande grazia Grande grazia Vuol dire Grande libertà Non era perché erano loro Noi non siamo di serie B È che loro l'hanno realizzato E noi non l'abbiamo ancora vissuto Pienamente Questa grande grazia Siamo ancora schiavi Della paura Delle religioni E dei nostri schemi Aún somos esclavos De nostro miedo E di nostra religione Ello lo avevano realizzato Nosotros Aún non lo abbiamo puesto In pratica Delle nostre cosine Io spero Che respirate profondamente Questo regno Ma non per gli altri Ma per voi Perché vivrete sicuramente meglio Non per gli altri Non per gli altri Sino per gli altri Perché possono vivere meglio Infatti non vi era Alcun bisognoso Fra di loro Non c'era Alcun bisognoso Fra di loro No había Ningun Necessitato Allora Quanti erano 3.000 4.000 5.000 8.000 Sembra 8.000 Non considerando Donne e bambini Ogni giorno Il Signore Aggiungeva Alla chiesa Quelli erano salvati Allora Infatti Dite una parola Infatti 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 Vuol dire Nei Fatti Non parole Ma Potenza Qualcosa Che è Infatti Cioè Nei fatti Nella evidenza Infatti Non vi era Alcun bisognoso Fra di loro Así que No había Entre ellos Ningun Necessitado Ai Mi padre Misericordia Ma Perché 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 Forza Leggilo Perché Leggi la parola Perché Leggi Perché Non c'era Alcun bisognoso Perché Perché Non c'era Non c'era Alcun bisognoso Perché Perché Domanda Punto interrogativo Dov'è la risposta Dov'è la risposta Qual è la risposta Qual è la risposta Allora Quello che avevano Lo avevano In comune Cioè Quello che io E anche tu Lo che io tengo Tambien è tu Lo puoi usare Puoi usarlo Vieni pure Quando vuoi Io vengo da te Quando voglio Oh ma come faccio Io andare da te Quando voglio E te da me Quando vuoi Se non sei libero Dentro Non ci puoi andare Non ci puoi andare Come faccio Io andare a casa Di Fabiano e Valentina Quando voglio Quando io chiera Se non sono libero Io E se non sono libero E se non sono liberi E se non sono liberi E se non sono liberi Entrerò sempre In punta di piedi E poi se li disturbo E poi E mezzanotte Poi si dormono E se a medianoche E stanno ruendo Io ho bisogno Di loro Però io lo necessito Io ho bisogno Di Monia Ho bisogno di Io ho bisogno di Io ho bisogno di Pilar Io ho bisogno di Mauro Io ho bisogno di Cioè Come faccio Ad andare libero Da te Se te non sei libera Con me E io sono libero Con te Anche nel buon senso dell'onorare la persona e l'ospite che ricevi Ma non siamo ospiti Siamo fratelli, è diverso Io non sono il tuo ospite Io non sono il tuo apostolo che viene a cena ufficialmente col tappeto rosso Io sono un fratello, una parte del tuo corpo E se non c'è questa libertà, prendetela Cominciate a dimostrare la potenza del cambiamento Sennò fate grandi prediche, grandi rivelazioni, grandi aggiustature di riunioni No! Non posso sentirmi ospite Sennò non è regno Non sto parlando di salvezza, smettetela Non sto dicendo che non siamo salvati ragazzi Ma sto dicendo che siamo ancora schiavi E non fate applauso Perché c'è da riflettere Ci dispiace per noi Non ci dispiace, non mi interessa, ma è scritto E questa è la prima chiesa Se io non mi sento libero In quale famiglia sto frequentando? Sono ospite o sono cittadino? Sono ospite del cielo o sono cittadino del cielo? Non ci scoraggiamo No tenemos che desanimarnos Siamo in cambiamento Siamo in restaurazione Ma possiamo dare un messaggio chiaro alla chiesa Ma più che alla chiesa Io darei un messaggio chiaro al cielo Ma più che alla chiesa Le dobbiamo dare un messaggio chiaro al cielo Signore Nonostante tutto ci impegniamo Stiamo imparando Nonostante tutto Stiamo comprometendo Stiamo imparando Voglio cambiare No voglio cambiare Cambio nel nome di Gesù Non vuol dire che se fino ad oggi abbiamo ragionato così Continuiamo a ragionare così Com'era la prima chiesa? Ah era una chiesa fatta di bambini Ce n'erano 8 mila Tutti giovanetti Preadolescenti Sa erano liberi No C'era anche gente vecchia Convertita Coriacea Pestona Dura Come Pietro Aveva anche persone di una certa età Dura in la cabeza A cabeza? No nel cuore Perché erano salvati Era chiesa No nel corazon Perché erano salvati Era in iglesia C'erano di tutte le istrazioni sociali Ricchi, poveri, medi Altri, bassi Allì avevano ricchi, poveri Medi Ma non vi era alcun bisognoso fra di loro E tutte le cose erano in comune Perché tutto lo poseían Tutto era in comune Ora Attenzione Non sono ancora arrivato al punto Di che devo parlare Aún no è llegato al punto Di che le tengo a parlare Tranquili, tranquili Tranquili Allora Tutti coloro che possedevano Poderi o case Li vendevano E portavano il riaccavato Delle cose vendute Perché tutto lo che poseían Heredate o case La vendían Ora Lo ripeto Via 8000 Tutti i padri Tutti Fuori Fuori di casa Bajo il puerto De Salomón Non tenían casas No Ovviamente Se no gli toccava Poi allo Stato di Israele Fare grazie a loro Ovvio che no Perché se no Le toccava Allo Stato di Israele Hacerle la grazia a ellos Ognuno aveva La sua casa Ma era tutto in comune Però tutto Estava in comune Hermoso Oh ragazzi La casa che avremo in cielo Sarà in comune con tutti Non vuoi sapere Via vai Di roba La casa che tendremo In il cielo Sarà tutto in comune L'uno con l'altro Era quello L'obiettivo Però della prima chiesa Vivere il regno E andare verso il regno Vivere il regno E andare verso il regno Vivere il regno Testimoniare del regno Andare verso il regno Queste tre cose Vivere il regno Testimoniare del regno Andare verso il regno Ira sul regno Grazie Rubio È molto faticoso Ma è una predicazione Importante Stosta per me Quindi Tutto quello che avevano Tutto lo che tenia Attenzione Leggete insieme a me No è importante Per arrivare All'episodio dopo Tutti coloro Che possedevano Quindi Chi sono Alcuni O tutti Non c'è scritto lì Alcuni Che possedevano Più case O più terreni Dice Secondo me Secondo me L'ha scritto Tanto per Dare un'idea Generale No cari miei Perché l'ha scritto Lo Spirito Santo Perché se non l'ha scritto Lo Spirito Santo Allora si può andare a casa Perché se non lo scrive Il Spirito Santo Quindi se testimonia Che tutti Quelli che avevano Cosa facevano Cosa facevano Che hacían Vendevano e portavano Il ricavato Delle cose vendute E lo deponevano Ai piedi degli apostoli Vendian Ora qui non entro Nella rivelazione Che ci portò Lo Spirito Santo Appunto quella volta Molto bello anche quello Che è hermoso Ma E poi Dà una Una testimonianza Oriose Chi è che di voi Conosceva Iose All'epoca A parte Gerardo Mauro Iose Conoscevi Iose Ok Oriose Soprannobinato Dagli Apostoli Barnaba Che significa Figlio di Consolazione Che bella Questa parola Barnaba Levità originario Di Cipro Avendo un campo Lo vendette E portò Il ricavato E lo depose Ai piedi degli apostoli Barnaba Barnabè Barnabè Figlio di Consolazione Hijo di Consolazione Allora questa è una testimonianza Specifica di un qualcosa Che era generale Siete d'accordo Quindi qui si parla Di libertà Non paura del domani Non Miedo del magnana Non Irresponsabilità Non andate a parlare Agli ebrei Di irresponsabilità Perché sono Veramente Determinati E inquadrati bene Irresponsabilità Irresponsabilità Non le hablen a ellos De irresponsabilità Perché ellos Sono Muy estrictos En eso Siete d'accordo Estan de'accordo Quindi non è che Non pensavano Al futuro Dei propri figli Ma pensavano Al futuro Della vita Non erano stupidi Erano convertiti Stavano andando Verso il regno Come emette Iban a essere Reino Come tu e io Ascoltate bene Quindi dopo Di tutti Fa un esempio Di Iose Quindi quello Che è scritto È perché quella Era una Delle testimonianze Lo che dice Qui è perché Sono uno Dei testimonianze Non erano Solo Le guarigioni Le liberazioni Segni Prodigi Miracoli Le conversioni Quello era Il pacchetto iniziale Non era solo La sanità La gente Che si convertì Ma Era una parte Era una specifica Di questa potenza In manifestazione E per gli ebrei Era tanta roba Perché loro Già sono così Di cultura Mettiamola così Era una specifica Della manifestazione Del Espirito Santo E per a ellos Era algo grande Perché Per a ellos Era algo De cultura Ora andiamo Alla correzione E questo Chiedo ai pastori Per primi Di ascoltare Perché ho sentito Negli anni Delle sfumature Su questo insegnamento Sbagliate Perché escuchen E allora voglio Chiarire per bene Allora innanzitutto Primero che tutto Queste offerte Nella chiesa Erano libere Perché vivevano La libertà Vendevano una casa Vendevano un campo Vendevano quello che volevano Vendevano quello che volevano Non la suocera Non la moglie Chiaramente Vendevano quello che avevano Vendevano quello che avevano Vendevano lo che tenivano E con un cuore libero Di amore e grande grazia E libertà Decidevano Di portare questi soldi Al corpo di Cristo La casa dove loro vivevano Che poi Veniva distribuita a ciascuno In particolare il suo bisogno Ora uso un termine Vi farà ridere Ognuno Ognuno aveva quindi Un beneficio da questi soldi Cada uno Tenia un beneficio Desse dinero Il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza Quella vera Quella vera raga La verdadera cittadinanza Ognuno era nel bisogno No Cada uno necessitava Quindi come disse Quella volta lo Spirito Santo Attraverso il pastore Simone Ci disse Come dico il Spirito Santo Attraverso il pastore Simone Che ogni bisogno Dice che Dice che cada necessità Dele persone Non erano Diecimila La prima chiesa Non erano Diecimila La prima chiesa Tutti i poveri A chiedere C'erano i poveri C'erano i poveri C'erano i ricchi C'erano i medi Ma nessuno era nel bisogno Perché tutta quella Grande quantità Di soldi Veniva distribuita A ciascuno Secondo il suo particolare Bisogno Se noi rientriamo Di nuovo Nella religione Si volvemo Entrare Nella religione Eh si Ma poi dopo In mezzo alla chiesa C'è quello Che vuole i soldi Quello fa il furbo Quello non ha voglia Di lavorare Eh ma qui si parla Di libertà Nella chiesa Cioè non è che era Una prima chiesa Di deficienti Scusa Sicuramente C'erano in mezzo Anche qualche soggetto Che dice così Io prendo alcuni Di questi soldi E vivo bene Ma vi ricordate Allo studio Sulla sincerità Del corpo Se si respira Libertà Integrità E sincerità Chi non è sincero Salterà fuori Ma non a causa Del don sincero Noi non dobbiamo Operare Secondo i principi Del regno Perché questo Era il principio Che ogni cosa Era in comune Ora faccio degli esempi Quello vendeva Aveva tre case Uno tenia tre case Una si abitava Le altre due le vendeva Nel cuore ha sentito Di fare questo dono E le hago un esempio Uno tiene tre case Vive in una Las otras due lo vende E da in offrenda Lo che riceve Quell'altro aveva due campi Uno l'ha tenuto L'altro l'ha venduto E ha dato il ricavato Alla chiesa E l'altro tenia Dos campi Uno lo mantuvo L'altro lo vendi E le dio lo che ganò Alla iglesia Libertà 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 Potevano farlo Come non farlo Podían hacerlo Come no Amen Questo è il cuore Ese è il corazón Amen Ma Pero Quando veniva portato Quando veniva traído Non c'era da nascondere Non c'era da nascondere niente Non c'era da nascondere Che bello Hermoso Arrivava Fabiano Llegava Fabiano Ho venduto il campo Vendì il campo Porta ai piedi degli apostoli E trae al piede Dei apostoli 50.000 euro 50.000 euro Mauro ha venduto 100 cani Mauro vendi 100 perros Porta il ricavato Ai piedi degli apostoli E trae la gananza Al piede Tutti quelli che avevano Poderi e case Li vendevano Qui non si sta parlando Di recime No 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 E né di obblighi Ma di libertà Di un cuore nuovo Libertà di amore Di fede Di speranza Perché l'obiettivo È il regno Non è la vita terrestre Non è la vita terrenale È la vita celestial Allora vi faccio la domanda E poi andiamo avanti Secondo voi La Chiesa oggi In generale Rispetta questo modello? Perché queste offerte Così copiose Servivano per tutte le persone Come si fa a noi A aiutare le persone Se non ci si fa Nemmeno a pagare Gli affitti dei locali Come si fa A distribuire I soldi A tutti Dalle offerte Se non c'è Nemmeno i soldi Per pagare una bolletta Come possiamo Distribuire A tutti Il dinero Della offrenda Qui ripartono Tutte le nostre Situazioni E dalle situazioni Anche Oggettive Alcune reali Ma altre poi Non lo sono Sono soggettive Perché in base A quello che noi Viviamo Da questo Parte tutte le giustificazioni E' vero E' vero Ha detto Si Ora Quindi non si parla Qui di decime Loro avevano già chiaro Se erano le decime Perché la prima chiesa Era fatta da ebrei Messianici Convertiti Ora Andiamo nella correzione Di questo episodio Quindi Attenzione Le offerte pubbliche Erano libere Perché erano veramente liberi O siamo ancora La prima pagina Quindi da qui a stanotte C'è tempo Allora Erano veramente liberi Quindi per essere Veramente liberi Bisogna non sentirsi Ne giudicati Non controllati E nello stesso tempo Ne giudicavano Ne controllavano E al mismo tempo No juzgavano E non controllavano Infatti 34-35 Dice Portavano il ricavato Delle cose vendute Lo deponevano Ai piedi degli apostoli Non facevano Non facevano bonifici Non c'era Non c'era Paypal Non c'era Non c'era Amore 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 Trasparenza Transparenza Perché se qualcuno Giudicava Era un problema Di chi giudicava Io sono libero Perché se Alguien juzgava Era un problema Di chi juzgava Io sono libero Ho venduto Questa casa Queste tre case Delle quattro Che avevo Tenete Questi sono Ora All'epoca Non lo so Sono 500 mila euro Apostoli Vedi tre Dei Dei Quattro 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 Ha dato Oh Mira Todo lo Che dio Viste Che Tenia Dinero Io te Lo Dije Gesù Mio Che Pietà Gesù Mio Ten Pietà Quindi C'era Chi Giudicava E Chi Si Sentiva Giudicato Ma Tiene La Paura Del Giudizio Non è Libero Nel Amore Ragazzi Quindi Tutte queste Offerte Libere Libere Non Obligate Potevano Darle Come Non Darle Eran Libre Perché No Estaban Obligati La Podían Dar Come No Tenían Che Darla Però La Domanda Che Mi Pongo Io Era Come Ma Tutti Erano Libri E Le Davano Pero Io Mi Pregunto Entonces Por Che Erano Libri E Lo Davan E Me Paro Qui Però Tutti Tutti Color Che Possedevano Poderi E Case Li Vendevano E Portavano In Ricavato Delle Cose Vendute Perché Il Loro Destino Era Il Regno Non Era Sistemare La Vita Quaggiù Sino La Eterna Ma No Perché Compravano Il Cielo Ma Era Una Conseguenza Del Cielo Dentro Di Loro Sino Che Era Una Consequenza Del Reino Dentro Dello Della Libertà Amen Andiamo Avanti Ora Ecco la Correzione Pastori Per Prima Ascoltate C'è Una Coppia Nella Chiesa Lui Si Chiamava Anania E Sua Moglie Safira Dice Ascorta L'andazzolo E Questo La Testimonianza E Questa C'è Una Gran Benedizione Del Signore La Sua Presenza E Qui Raga Non Si Batte Pari Tutti I Giorni Sotto Lo Spirito Santo Tutti Stanno Vendendo Roba E Portando Guardate Lì Che Casse Piene C'è La Chiesa Todos Stanno Vendendo Las Cosa Llevavano Alla Iglesia Miren Come Stanno Il Cajero Della Iglesia Si Imitavano Anche In Questo Nella Libertà Quindi Dice Quello Ora Qualcuno Dice Però Aspetta Se L'ho Venduto Io Voglio Sede A Meno Voglio Faire Bella Figura Vendo Anch'io La Mia Porto Anch'io Tutta E Sto Bella Ci Poteva Stare Anche Questa Motivazione In Alguien Arriva Anania Saffira Allora Noi ci Sa Qui Campo Si Dai Si Vende Anche Noi Si Benedice La Casa Del Signore Nostro Teniamo Ese Campo Poi Vendamolo E Vendere La Casa Del Signore E Vero Va Bene Dai Lo Fanno Gli Altri E Qui C'è Paragone Attenzione E Verdad Sta Bien Lo Sotro Lo Hacen Vamo Hacerlo Tambien Nostro Allora Bene E Estan Comparando A Lo Demasi Ora E Molto Importante Questo Perché Questo Esempio Di Anania Saffira E Stato Delle Volte Insegnato Con La Sottolineatura A Vese Fue Insegnato Surrayando Che Loro Hanno Disubbidito Perché Non Hanno Portato L'offerta Come Fueron Castigato Perché Non Llevaron L'offrenda Come Tenían Che Haberlo Hecho Nel senso Che No Non Si Deve Fare Anania Saffira Quando Ci Sa Le Cose Si Riceve Le Cose Si Vende Le Cose Si Deve Dare La Descima E Le Offerte Perché Sempre Dicimo No Quando Teniamo La Cosa Se Vende Le Cosas Non E Hai Dare L'offrenda E Il Diezmo Non E Non E Anania Saffira Danno Un altro Tipo Di Testimonianza Anania La Moglie No Il Culto Era Iniziato Va Dalla Apostoli Porta Il Dono E E Noi Abbiamo Venduto Un Campo Ecco 50.000 Euro Pietro Guarda E Lui L'aveva Fatto Per Fare Appunto Bella Figura Come Avevano Fatto Tutti Gli Altri Della Chiesa Quindi C'è Un Paragone C'è Un Inferiorità Ci Sono Varie Dinamiche Che Controllavano Il Pensiero Di Anania Anche Di Sua Moglie Quindi L'Apostolo Paolo Vede 50.000 Euro A Porto D'accordo Anania Anania Zafira Si Quedaron Con Una Parte Del Dinero In Comun Acuerdo A Quel Punto Pietro Interviene E Gli pone Una Domanda La Domanda Gliela Fece L'Apostolo Pietro Ma Gliela Fece Lo Spirito Santo Attraverso Pietro Era Durante La Riunione Di Culto Nel Momento Delle Offerte Probabilmente O forse usava Che ognuno Quando arrivava Portava Le offerte Non importa Ma Pietro Nell'autorità Spirituale E lo Spirito Santo Per mezzo Di Pietro Pone La Domanda Ma Avete Venduto Il Campo Pertanto Dice Poi La Moglie Le Dice Han Vendito Il Campo Portanto Questo Lo Dice La Moglie Dopo Tre Ore Dopo Ma Prima Dice Anania Come Ha Potuto Dice Guarda Attenzione Anania Perché Satana Ha Riempito Il Tuo Cuore Per Farti Mentire Allo Spirito Santo E Trattenere Una Parte Del Prezzo Del Podere E Dijo Pedro Anania Perché Llenò Satanas Tu Corazón Para Che Mintieses All Spirito Santo E Sustrajes Il Rimaneva Invenduto O Non Rimaneva Tuo E Il Ricavato Della Vendita Non Era Forse A Vostra Disposizione A Tua Disposizione Perché Ti Sei Messo In Cuore Questa Cosa Tu Non Hai Mentito Agli Uomini Ma Dio Qui C'è La Chiave Del Corpo Di Cristo Non Era Il Fatto Se Loro Potevano Portare Quella Grande Offerta O Meno In Base Al Paragone Perché Vedevano Che Tutti Nella Chiesa Chi Aveva Poderi E Campi E Case Tutti Vendevano E Portavano Tutto Il Ricavato Guardate Perché Io Su Questa Cosa Ho Detto Signore Perdonami Perdonaci Dov'era Quindi Il Problema Qual Era Il Problema Qual Era Il Problema Non Era Se Portare O Non Portare L'offerta Potevano Tenersela Andare In Vacanza A Cesarea Il Problema Non Era Llevar O Non Llevar L'offrenda Perché Podían Cogerlo Irse In Vacaciones Una Bella Spa Ora Era Che Mentivano Era Che Habían Dicho Mentira Era Doppiezza Era Un Corazón Doble Era Bugia Era La Mentira Era Nascondimento Era Sconder Era Non Sincerità Era Non Sincerità Era Non Libertà Era Paura Era Miedo Per Questo Hanno Mentito Allo Spirito Santo Questo Tipo D'offerta Non È Da Paragonare All'offerta Di Cain Abele Quando Si Insegna Che L'offerta Del Cuore E L'offerta Della Mente Non Possiamo Usare Questo Episodio Per Parlare Dell' Offerta Ma Lo Dobbiamo Usare Per Come Siamo Legati Dentro Noi La Tenemos Que Usare Para Hablar De Come Siamo Trattati Interiormente All'udire Queste Cose Anania Cadde Morì E Una Grande Paura Venne Su Tutti Coloro Che Udirono Queste Cose All' O O O Anania Dessa Palabra Cayò E Expirò E Vino Un Gran Temor Sobre To Lo Che O O Allora Si Alzaron Alcuni Giovani Lo Avvolsero Lo Portarono Fuori E Lo Seppelliron Un Bel Culto Il Culto Va Avanti Ora Avrei Voluto Vedere Noi Se Andava Avanti O Il Culto Dopo Sera Stati A Portare Uno No Ma In Che Condizioni Siamo Ridotti Noi Non Loro Perché Anania E Saffira Erano In Cielo Punto Ma È Stato Un Segno Chiaro Davanti Al Popolo Di Dio Cioè Cose Quali Erano Le Cose Che Legavano Anania Saffira Erano Le Cose Opposte A Quello Che Vivevano I Discepoli Con Il Regno Di Dio In Mezzo A Loro Ecco Perché È Scritto Perché Erano Liberi Liberi Di Non Di Di Un Appuntamento Dopo Anni E Mesi Erano Liberi Veramente Liberi Azimi Di Sincerità Eran Libri Realmente Libri Chi È Il Signore Chi È Il Signore Anania E Saffira Erano Liberi Ma Dimostrarono Invece Che Erano Schiavi Anania E Saffira Mentirono Allo Spirito Santo Chi È Lo Spirito Santo È Il Signore Della Chiesa È Il Capo Della Chiesa Loro Non Erano Liberi Dimostrarono Questa Loro Schiavitù Ecco Perché Mentirono Non Erano Liberi Avevano Volevano Dimostrare Qualcosa Facendo Una Bella Figura Ma Mentirono Ma Mentirono Allo Spirito Santo Ma Lo Spirito Santo È Il Corpo Di Cristo Ecco Perché Non Potevano Più Starci Lì Nel Medio La Chiesa La Iglesia Ascoltate Bene Escuchen Bien Poi Arriva La Moglie Pietro Le Rivolse La Parola Dicendo Dimmi Avete Voi Voi Venduto Il Potere Pertanto Ora Se Succedesse Da Noi Così Non Pensiamo Alle Altre Chiese Gli Altri Siamo Noi Se Se Io Chiamo Qualcuno Di Voi Se Io Chiamo Alcuno Di Ustedes Vabbè Ora Quello Poi ci Arrivo Dice Ora Si Comincia A Tremare E Qui Empezamos A Temblar La Domanda E La Pregunta Es La Chiesa Oggi Tu E Io Dimostra Questa Verità La Chiesa Oggi La Iglesia Oggi È Libra Come Allora Si Si Nella Misura In Que Tu Sei Libra La Chiesa Oggi Vive In Questo Principio Del Regno È Molto Interessante Perché Tra l'altro I Ministri Se Chiedono Le Offerte O Le Primizie Per Cercare Un Po' Di Tirare Il Carro Ditemi Se Sbaglio Se Lo Fai Se Io Lo Faccio Sei Uno Che Controllo Fai Conte In Tasca Non Avete mai Pensato Questa Cosa No Perché Nessuno Mi Posto La Domanda No Perché Nunca Nadie Te Hice La Pregunta No Dice No No Io Questo Tipo Di Problema Non Ce L'ho E Dicimo No Io E Ce Tipo Di Problema Non Lo Ten Bene Allora Dimmelo E Poi Si fa Pratica Insieme E Questo Regno Non Consiste In Parole Ma In Potenza La Non Libertà Attenzione A Quelle Mi Ha Detto Lo Spirito Santo Come Ministri Se Chiedete Le Offerte O Le Primizie Siete Color Che Controllano E Fanno I Conti In Tasca La Realità E Un'altra La Non Libertà Dei Credenti Oggi Viene Rigirata Contro I Ministri Dicendogli Viene Viene Volteata Contra Los Ministros Diciendo Que Controlan Y Siempre Estan Pidiendo Non Vedo Tanti Sorrisi No Veo Mucha Sonrisa Meglio Se Sono Non Sorrisi A Ravidimento Si Sono Non Sorrisi Per Arrepentimento Perché Se Sono Non Sorrisi Per Judicare Quello Che Sto Dicendo Un Problema Si Sono Non Sorrisi Perché Il Problema Non È Nostro Se La Chiesa Oggi Fosse Di Discepoli Del Regno Veramente Liberi Non Sarebbe Mai Nell' Indigenza Perché Sarebbe Esattamente Come La Prima Chiesa Perché Seria Esattamente Come La Primera Iglesia Che Chiesa Ricca No Libre Libera Non Solo Prospera Ma Per Prima Cosa Veramente Libera Non Solo Prospera Sino Primeramente Libre Perché Non C'è Questa Libertà Perché Questa Libertà Non La Ten Ma Come Ci Dice Il Signore Lo Espio Santo Da Anni La Tua Vera Casa Non Sono Tui Nipoti I Tuoi Figli I Miei Figli Tuo Figlio Tu Ijo La Tua Vera Casa È La Gerusalemme Di Sopra Non Significa Che Non Ti Prendi Cura Della Tua Discendenza Ma Se Ti Prendi Cura Della Tua Discendenza Prima Ti Devi Prendere Cura Della Discendenza Del Cielo Primeramente Cuida La Discendenza Del Cielo Perché La Tua Casa Naturale Dice Il Signore Tanto Un Po Di Tempo Fa Passa Ma La Casa Spirituale È Ora E E Non Parlo De Le Offer Perché Le Offer Sono Il Cuore Tu Puoi Vendere Un Anello Con Diamante Andare Liberamente In Grazia Del Signore In Vacanza Per Una Settimana Perché Hai Bisogno Realmente Dopo Un Periodo Stressante Di Riposo Chi Ti Può Giudicare Nadie Ti Può Giudicare Purtroppo Delle Volte Ci Giudichiamo Anche Noi Stessi E Non Siamo Libri Perché Uno Fa Una Cosa Dice Ma Potevo Farno Un Antra Certo Però Allora Potevo Fare Questa Cosa Allora Era Meglio Se Aiutavo Quell' Altro E Digo Però In Vez Di Cosa Poteva Mejor Aiutare E Così Perché Può Aver Fatto Una Cosa Ma Era Meglio Se Ne Facevi Un Altro Potevi Farne Anche Un Altra La Stessa Cosa Andarono Da Gesù E Dice Ma Come Questo Vaso Di Olio Di Nardo Profumato Si Poteva Usare Per I Poveri Certo Ce Ne Avevano Un Po Di Poveri Lì Igual Hicieron La Se Siamo Lì Ragazzi Non Si Fa Mai Pari Si Stiamo Pensando Nunca Vamo A Stare Perché Se Hiccio Algo Potevi Hacere Otra Cosa Más E Ognuno Può Dà La Sua Propria Aggiustatura E Interpretazione E Allora Non Ci Si Gode Mai Niente Perché Pensando A Quella Cosa Certo Io Sono Andato In Vacanza Due Giorni A Rilassarmi In Una Spa Ho Speso 300 1000 2000 Però Mi Arriva Un Messaggio Dei Bambini Che Con 25 Euro La Famiglia Parlo Do In Mangiar A Loro Estanno Morendo Di Fame Per Un Mese Allora Avrei Tutta L'autorità Di Sentirmi In Colpa Allora Qui Succede Un Problema Serio E Anche Questo Dimostra La Non Libertà Nella Grazia Vero Comunque Ritorniamo A un Esempio Perché L'offerta È Del Cuore Puoi Tenerti 3000 Euro Della Vendita Del Brillante Il Signore Non Ti Chiude Certo La Porta Del Cielo E Puoi Portare Ricavate I Piedi Degli Apostoli Prospettiva Decisione Del Cuore Però Guardiamo Invece Un'altra Parte Allora Che Non Riguarda Però Il Significato È Questo Per Farvi Capire Riguardo Per Le Primizie Le Primizie Cosa Sono Un' Obedienza Di Amore Di Fede E Libertà Di Un Principio Del Regno Cosa Sono Le Primizie Tutto Ciò Che Primizia La Decima Il Diesmo Ok A me È Successo A Mi Mi Ha Passato Faccio Un Esempio C'è Qualcuno Di Voi Qui Che Ha La La Busta Della Decima Della Primizia Oggi Da Presentare Puoi Venire Un Attimo Te Luciana Condino Ora Non è Che Cascate Morti Spero Spero Se no Si Fa Il Funerale Andate Con Il Signore E Finito Ogni Problema No 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 Fermo Non c'è Da Precario Quindi Loro Presentano La Primizia Presentano Su Primizia Giratevi Verso I Quindi Portano La Primizia E Traen Su Primizia La Primizia Viene Calcolata Su Che Cosa La Primizia Viene Calcolata Sobre Che Su Quello La Benedizione Uno Riceve Sobre La Bendizione Che Recibimos Presentano Nesta Primizia Presentan Su Primizia Lo Spirito Santo Mi Parla E Mi Dice Non È Tutta Non È Tutta Ve Lo Posso Dire In Questi Anni Qualche Volta Mi È Successo Persone Hanno Portato La Primizia Io Ho Ringraziato Il Signore Perché Ho Una Benedizione Alla Mia Vita Al Ministero E Alla Chiamata E Anche Di Quelle Persone Con Me Certo Io Dico La Grazie Signore Perché È Una Bendizione Per La Vida Per Il Ministero Per Però Lo Spio Santo Mi Ha Dito Non È Tutta Stanno Trattenendola Grazie Potete Tornare Non Siete Morti Non È Tutta La Primizia Mancano Altre Primizie Ma Che Cosa Ho Fatto Io Sono Stato Zitto Perché Perché È Sapienza Sabidoria No No Per Non Creare Disagio Discorsi Tipo Sobre Controllo L'opportunismo Discussioni Discussioni O Magari Che Qualcuno Si Alzi E Va Via La Domanda È Come Siamo Ridotti Qual Siamo Riducido Quale Modello Stai Svolgendo Lorenzo Di Chiesa Che Modello Lorenzo Stas Poniendo En Hecho Della Iglesia C'è Una Libertà Dello Spirito Santo Ma Il Regno Di Dio Non Consiste In Parola Ma In Potenza Cioè Un Fatto Che Si Dimostra Infatti Non C'era Alcun Bisognoso Infatti Tutti Quelli Che Avevano Case O Podere Li Vendevano Infatti Erano Anche Questi Gli Atti Degli Apostoli Ma Non C'era Vergogna C'era Libertà Anani Saffira Potevano Ancora Stare In mezzo Alla Chiesa Per Anni Servire Il Signore Todavía Podían Stare Anni In Medio Al Pueblo Del Signore Servirlo Ma Gli Entrato Questo Pensiero Di Satana Che Però Ha Trovato Terreno Nelle Loro Motivazioni Nelle Loro Paure Quindi Dice No No Abbiamo Venduto Sì Sì Per Questo 50 Mila Esattamente Come Lo Ha Detto A Me Dice Quella Ha Presentato La Decima Ma Non È Tutt La Decima E Se Presentò Il Diezmo Però Non È Trattenuto Una Parte Ma Io Per Primo Non Sono Libero Di Chiederlo Se Dunque Il Figlio Vi Far Liberi Sarete Veramente Liberi La Prima Chiesa Dimostrava Questo Ecco La Restaurazione Noi Siamo Liberi Sia Di Dare Che Di Non Dare Non Veniamo Non Benedetti Se Non Diamo Ma Se La Chiesa In Senso Locale O Generale È Ridotta Come Ridotta Su Delle Situazioni Si Ha Riducido Come Si Ha Riducido In Alguna Situazione È A Causa Della Non Libertà Perché Se Fossimo Veramente Liberi Generiamo Prosperità Generariamo Prosperità Questo è Arrivato Ora Se Siamo Veramente Liberi Generiamo Prosperità Anche Se Dobbiamo Affrontare Dei Momenti Di Deserto Di Battaglia Di Come Dice Paolo Io So Stare Nell' Indigenza Nell' Abbondanza Imparato Quindi C'è Sempre Da Imparare Nella Vida Vi Sentite Leggeri O Pesanti No Se Ascoltate Lo Spirito Siete Veramente Liberi E Leggeri Lo Ripeto Nella Chiesa Non C'era Alcun Bisognoso Perché Questo Era Il Clima Che Vivevano Di Libertà Se La Chiesa Ancora Vive In Questa Continua Situazione Che Non È Un Passaggio Ma Una Costante Vuol Dire Che C'è Un Punto Da Approfondire Se L' Iglesia Todavia Vive In Questa Costante Quiere Dicare Che Che Abbiamo Che Corregir Eccolo Qua Questo Significa Che Il Vero Problema Da Affrontare Per Ogni Persona Sia Essa Credente Che Non Credente Non È Legato Ad Avere O Non Avere I Soldi Ma La Sua Mentalità Perché È Solo Quest'ultima Che Lo Fa Essere Veramente Ricco Veramente Povero Schiavo O Libre Primeramente Dentro Il Su Cuore E Poi Dentro Il Su Portafoglio Quindi Smettetela Ve lo Do Come Consiglio Di Continuare A Dire Qui Si Chiede I Soldi Se Si Chiedano Si Piden È Perché Non Siamo A Quel Punto Della Chiesa Quando Siamo A Quel Punto Della Chiesa Dove Non Ci Sarà Nessun Bisognoso E Qualcuno Viene A Chiedervi Soldi Allora Alzate Per Tappategli La Boca Ma Se Voi Dite Qui Si Chiede Soldi Chi Si Piede Dinero Chi Si Fai Contando Lo Che Tengo Il Monedero Chi Si Controlla Lo Diez Cari Miei Ma I Frutti Dimostrano La Condizione Tua Perché Se C'è Un Altro Frutto Tranquillo Nessuno Chiederà Niente So Che Non Vi Piace Questa Cosa Ne Anche A Me So Che Eso Non Le Gusta E A Mi Tampoco Un'ultima Cosa Una Ultima Cosa C'è un Messaggio In realtà Che Io Ho Scritto Sul Mio Telefonino Il 17 Luglio 2022 Fresche Lova Disse La Gallina Però Questo Messaggio Che Ho Salvato Nel Mio Telefono Personale Non Ve L'ho Mai Mandato Ancora Risale A Un Discorso Di Mesi Prima Tanto Oggi Siamo A Soffrire Continuiamo A Soffrire Lo Spirito Santo E La Parola Ci Insegnano Di Non Giudicare In Generale Leggi Matteo 7 1 3 Non Ora No No Tanto Arriva Il Messaggio Ve lo Mando Stanotte Per Aglietarvi I Vostri Sogni La Parola Di Dio Ci Insegna A Non Giudicare In Generale E Poi In Specifico Il Proprio Fratello I Proprii Ministri Noi Discepoli Siamo Chiamati A Giudicare Solo Per Lo Spirito Cosa Significa Che Significa Che Lo Facciamo Quando Noi Ci Muoviamo Con Lo Spirito Santo In Mezzo Al Mondo Discernendo Con Il Nostro Stesso Vivere Le Tenebre Intorno A Noi Ecco Perché Giudichiamo Tutto Significa Che Lo Facciamo Quando Stiamo O O O Nel Mundo Il Spirito Santo Nos Rivela Le Tenebre Tutte Le Cose Di Questo Tempo Vengono Giudicate Dal Nostro Vivere In Cristo Nella Pienezza E Nella Guida Dello Spirito Santo Nelle Settimane Passate Lo Spirito Santo Mi Ha Dato Questa Esortazione Ma Oggi Domenica 17 Luglio Ho Avuto La Conferma Della Necessità Di Condividere Questo A Tutte Le Chiese Eccola La Parola Fratelli E Sorelle Come Sta Scritto In Romani 14 4 Non Giudicate Il Domestico Altrui Qualcuno Dicame E Scritto In Romani 14 4 Non Giudicare Il Domestico Altrui Ora Vi Dico Questo Riguarda Anche L'aspetto Dell'amministrazione Dei Beni Di Ciascuno Dei Figli Di Dio E Ora Le Dico Questo Significa Tambien Dell'amministrazione De De Cada Uno Piuttosto Invece Esortatevi Gli Un Gli Altri Ad Essere Veramente Liberi Per Fare La Volontà Del Padre E Incitatevi Alle Buone Opere Che Lui Ha Già Preparato Affinché Le Compiate Buone Opere Buone Opere Buone Opere La Buona Obra Che Il Padre Già Preparato Stiamo Attenti E Vegliamo Su Questo Giudicare Stiamo Attenti Pongamo Attenzione Sobre Prima Di Diventare Sterili Spiritualmente Lo Ridico Ora Mi Fermo Un Secondo Se Tu Non Adempi Il Dare Il Signore Ti Benedirà A Prescindere Ma Se Tu Adempi Al Dare Del Cuore Nella Vera Libertà La Verdadera Libertà Il Signore Moltiplicherà Tante Cose Che Tu Non Immagini Nemmeno Ma Dipende Da Te È Una Scelta È Una Scelta È Una Scelta È Una Decision Ma Noi Ragioniamo Ancora In Senso Umano Io Sto Solo In Questa Casa Se Vende Anche Questa Dopo Chiedeva Andare In Affitto E se Il Signore Ti Chiede Questo E se Il Signore Te Lo Pide No No Questo Me Lo Chiede No Ma Come Te Lo Chiede Se Se Dice Andare In Tende O Andare In Affitto E Ti Dice Vendi Questa Casa Vendi Questa Casa Prendi 500 Mila Euro Dai 200 Mila Ai Poveri Poi ci Penso Io A te Vieni E Seguimi No 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 Questo Non Me Lo Dira Mai E Allora Rimani Schiavo Delle Tue Paure Anche Del Tuo Futuro E Non Vivrai La Libertà Può Essere Può Essere Ma Lasciamo Stare Questo Ora Di Riflesso Vi Dico Questa Cosa Non Giudicate L'amministrazione Economica Del Corpo Di Cristo Non Giudicate Smettetela Di Giudicare L'amministrazione Del Corpo Di Cristo Al Cuale Appartenete Per Grazia E Per Opera Dello Spirito Santo Stesso E Leggete Attentamente Vesta Reflexione Il Tuo Datore Di Lavoro Tu Jefe De Trabajo Ti Chiede Conto Di Come Usi Ciò Che Lui Ti Dona Come Tu Stipendio Non Credo Il Suo Dovere E Darti Il Tuo Salario Cioè Quello Che Ti Spetta Per Quello Che La Legge Ha Regolato Che Si Ha Dato Ad Ogni Lavoratore Così Per Gesù Verso La Sua Opera E Verso I Sui Servi Ai Quali Dona Il Suo Salario E Sui Doni Facendoli Arrivare Attraverso Tutti I Sui Figli Nelle Nelle Primizie Della Fede E Nelle Offerte Del Cuore Ed Anche In Questo Specifico Aspetto Gesù Ti Dice Di Non Giudicare I Propri Conduttori E I Lidere Su Come Amministrano I Soldi Che Vengano Offerti Alla Chiesa E Al Ministero E Solo Gesù Il Datore Di Lavoro Dei Suoi Operai E Ai Quali Dona Su Salario Facendoli Arrivare Attraverso Tutti I Sui Figli I Sui Figli Sono Solamente La Mano Della Providenza Di Gesù Che Dona Su Salario A Su Operai Però Così Come Accade Per Il Naturale Così Anche Per Il Regno Per I Principi Del Regno Ricordati Che Il Tuo Datore Di Lavoro Come Quello Di Tutti Non Ti Tiene Conto Di Ciò Ne Farai Del Tuo Salario E Ti Aspetta E Sei Tu Il Responsabile Per Te Stesso Quando Noi Giudichiamo Chi Gestisce I Nostri Soldi Nella Chiesa E Perché Pensiamo Ancora Che Sono Nostri E Non Di Gesù E Pensiamo Che Abbiamo Il Diritto Di Giudicare Di Chiedere Conto Di Ciò Che Ne Viene Fatto Ma Questo È Un Pensiero Che Ha Il Senso Delle Cose Dell' Uomo Ed È Un Un Giudizio Che Poi Ricade Su Noi Stessi Come Sterilità E Miseria Spirituale Perciò Quando Vedi Manifestarsi Questo Giudizio In te Perché Tanto Si Manifesta Esci Dalle Gabbie Della Paura Del Controllo Del Giudizio Del Giudizio Dell'incredulità E Dona Allegramente Con Gioia Fiducia Amore Libertà Facendo Prosperare Con Gozo E Prosperità Facendo Prosperare Il Tuo Prossimo I Poveri La Tua Chiesa E Tuoi Ministri E Ne Avrai Una Liberazione E Una Benedizione Moltiplicazione In più A Quella Che Ti Viene Concessa Per Grazia Io Non Vengo A Chiedere A Te Che Cosa Ne Fai Dei Soldi Che Guadagni Perché Te Giudichi E Chiedi Conto Anche Nel Tuo Silenzio Di Quello Che Ne Faccio Io Delle Tue Decime Per Qualcuno Forse Non È Un Problema Questo Non L'ha Mai Pensato Perché Anche Questa È Una Linia Di Sterilità Nella Chiesa La Chiesa Non Prospera Perché Ha Questo Giudizio Come Viene Amministrato I soldi Dal Pastore Giovanni Dalla Pastora Maria Dalla Pastore Elisa Ma Io Avrei Fatto Così No Ma Io Voglio Dire Se Chiesa Parole Potenza Palabra Potenza Religione O Regno Libertà O Schiavitù Io Deciso Basta Questa Vergogna Non Mi Interessa Se Mi Giudicate Io Non Posso Giudicare Nemmeno Me Stesso Cosa Significa Che Amministro Sempre Bene No Se No Mi Chiamerei Gesù Cristo Non Lorenzo Lippi Ma Noi Noi Parlo Perché Posso Farlo Anch'io Ovviamente Ma Voi Non Potete Giudicare Ciò Che Viene Fatto Dei Soldi Che Date Perché Non Sono Vostri Sono Di Dio Perché Non Sono Di Usted Di Dio Dice Sono Del Signore E Quindi Sarà Un Problema Suo Tu Prendi Lo Stipendio Tu Tomas Tu Salario Tu Fai Le Unghie E Prendi Soldi Giusto La Persona Che Ti Da I Soldi Dice Ma Rubi Che Ne Fai Fai Bene Fai Male Che Cosa La Persona Che Entrega Il Dinero Te Pregunta Però Tu Che Hai Il Dinero Lo Lo Usa Si Ride Ma C'è Da Piangere Perché No Facciamo Questo Nella Chiesa O No Qualcuno Lo Fa Si Si Dai Smettete Liberi Alguien Lo Hace Veramente Liberi Io Non Vi Sto Giudicando Guardando Me Stessa Allo Specchio Tante Vole Dico Me Io Ragiono Sulle Cos Ma Se Volete Ser Veramente Liberi Cominciamo A Lavorare Ragazzi Perché È Tempo La Ristorazione Noi Vogliamo Quella Prima Chiesa Con L'Aggiunta Che È L'Ultima Quindi Chi Non È Libero Sia Libero Io Vi Manderò Questo Messaggio Tanto È Salvato Faccio Copia In Colle Ve Lo In Vio Ma Io L'ho Riletto Non Sapete Voi Quante Volte Non Per Insicurezza Ma Perché Riflettevo E Mi Ha Colpito Questa Cosa Perciò Quando Lorenzo Vedi Manifestarti Questo Giudizio In Te Esci Dalle Gabbie De La Giudizio Salve Come Vuoi La Cura Dona Ancora Di Più Allegramente Con Gioia Con Gozo Fiducia Amore E Libertà Facendo Prosperare La Chiesa Facendo Prosperare Il Tu Prossimo Facendo Prosperare I Poveri Facendo Prosperare Gli Altri Ministri Questa È La Cura Contra Il Giudizio Perché Se Tu Fai Questo Perché Se Tu Lo Haces Ah Sì Ma Il Pastore Giovanni E Chiede Sempre Questa Cosa L'impegnativa E Poi L'offerta E Non Ci Si Fa E Così Che Poi Non È Giusto Che I Pastori Stessi Si Impegnano Delle Propie Tasche E A Vecce Dicimo Però Il Pastor Giovanni Siempre Sta Pidiendo Dicendo Che Hace Falta Non È Giusto Tampoco Che Si Comprometano Del Su Proprio Bolsillo Certo La Pastore Elisa Prende Un Buono Stipendio In Grazie Dio Lei È Libera Certo Di Mettere Tutto Nella Chiesa Il Su Stipendio È Verdad La Pastore Elisa Toma Un Buen Salario E Tiene L'opportunità Di Ponere Si torna Alla Prima Chiesa Ma Non È Giusto In Che Senso Perché Non Può Ser Una Condizione Costante Perché Non È Una Responsabilità Solo Del Pastor O Del Apostolo È Del Corpo Di Cristo La Testa Non È Morto Il Corpo De Cristo Perché La Iglesia Non È Despegada Del Corpo Sino Ser Muerto C'è Una Responsabilità È Una Responsabilità È Un Diritto È Un Dovere D'amore È Inutile Dire Ma Io Non Ho Niente Smettila Perché Sennò Verrai Veramente Provato Dal Signore Tipo Finire Nel Deserto Dove Non Avrai Veramente Niente Perché Purtroppo La Paura Ci Fa Guardare Sempre A Quello Che Ci Manca Perché Il Miedo Sempre Non Hace Ver A Lo Che Non Hace Falta O A Quello Che Ci Potrebbe Mancare Per Noi E Per La Nostra Discendenza Perché Il Signore Ci Vuole Attenti Stolti Siamo L'anima 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 Nostra Sarà Ridomandata Stanotte Che Ne Sarà Di Tutto Quello Che Ti Stai Costruendo Si Ritornando Ritornando Al Punto Poi Non Vi Ho Detto Versetti Ma Tanto Saranno Scritti Anche Nel Messaggino Non Giudicate L'amministrazione Della Chiesa Smettetela Non Giudicate L'amministrazione Dei vostri Pastori Dei vostri Leader Sapete Cosa Succede In Tante Chiese Quando La Gente Arriva E Porta Migliaia O Centinaia Di Migliaia Di Euro Entrano Subito In Autorità E In Decisione Nelle Chiese Perché Hanno Messo I Soldi Tanti Soldi Mucho Dinero E Quindi Vogliono Essere Ascoltati Vergogna 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 E Quando Arriva Qualcuno E Da I Soldi Qualcuno Dice No Ma Io Dovevo Dare Guarda Io Dovevo Dare 280 Euro Di Decima Per Ora Hanno Dato 200 Va Bene Così Però Por Ora Di 200 Sta Bien As Tanta Visto Arrivato Quello N Trajo 300 Mil Euro No Cari Miei No Querido Perché Tu Renderai Conto Davanti Al Tribunale Di Cristo Come Me Perché Tu Le Vas A Dar Cuenta De Enfrente Al Juzgado De Cristo Come Io È È Quello Che Dice Ruberete A Dio In Malachia Non È Perché Dio Dice Oh Mi Hai Rubato Giudizio Distruzione No Se Noi Rubiamo A Dio Sapete Che Succede Ne Abbiamo Un Danno Noi Non Dio Se Tu Non Dai Le Decime Su Tutto Ciò Che Hai Da Dare Per Amore Per Convinzione Se Tu Arrotondi Sempre In Meno Invece Che In Più Non È Perché Uno Fa Conti Quando Io In Degli Anni Ho Detto A Delle Persone Che Ha Disturbato Molto Anche Questo Non Mi Portare La Decima 123 Euro E 50 Centesimi Io Le Dice No Mi Tra Il De 123 Si Alza Lo Spirito Si Le Vanta L Spirito E Dice Ma Cosa Va A Giudicare La Decima E Uno Dice Se È Preciso Ho Fatto Il Conto Preciso Ma Io Non Dico Perché Mi Interessa 50 Centesimi In Più Gioia Mia Ma Mi Interessa La Tua Libertà Mi Interessa Tu Libertà Perché Se Tu Misuri Dio Misura Perché Se Tu Mide Dio Mide Perché Vuol Dire Che Sei Libro Perché Significa Che E Libre Non Ho Da Giudicare Le Vostre Decime Io Non Tengo Che Giudicare Tutte Le Mie Ma Poi Il Signore Arriva Lì E Mi Rimprovera Dice Smetti Di Giudicare Te Stesso E Obedis A Me E Cambia E Migliora E Smetti Di Giudicare Te E Smetti Di Giudicare Gli Altri Lavoro In Corso Ma Sia Anche Per Tutti Voi Se Non Vivete Questa Libertà E Non Vivrete Nemmeno Questa Prosperità Ma Sarete Miseri Nella Vostra Miseria Dice Ma Io Ho Tante Case Tanti Soldi No 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 Sei Misero Dentro Caro Mio Mi Detto Il Signore E Viviranno Dentro Dessa Misere Diciamo Io Tengo Tanta Casa Io Tengo Tanto Dinero Non La Misere Sta Nel Corazone Non Non Nel Portafoglio Non È Dentro Di Ti Amén E noi Vogliamo Tornare Alla Prima Chiesa Cheremo Volvere Alla Primera Iglesia Ma se c'è quella grande grazia e quella grande sincerità Però se c'è questa gran grazia e questa gran sincerità E comincia a fare domande E' questa l'offerta E' questa la decima Più funerali e conversioni Sto scherzando Dai Su E' tutto un anderianda E' culto No? E' cimitero E' diverso Si ride ma C'è scritto una grande paura Venne su tutti quelli che udivano queste cose Sulla chiesa La parola dice che vino E' una contraddizione Perché c'è grande amore Nella iglesia Però hai Tambien una contraddizione Non aveva gran amore Nell'iglesia E' andata a chiedere a quello Se aveva venduto per tanto Gli ha detto di no Morto Stecchito Le pregunto a Esa persona Si aveva venduto Non andate in quella iglesia Controllano le offerte Ello controllano la offrenda Quanto tu guadagni Quanto tu porti Quanto tu llevas No, quanto tu guadagni no Quanto porti al Signore Quanto tu le llevas al Signore Quante decime dai Quanto diezmo das Se tu ti fa la domanda Se ti capita Ora Quando tu porti la busta Dalla E non ti fa pregare sopra Antes de che ti passi Ponga il sopra E sal corriendo Non sento Se mi fanno la domanda Non sento Eh, ridiamo Ridiamo E se arriva quello Senti Ma questa è la tua decima Questa è la tua decima Di quello che hai guadagnato Questa è la tua decima Della casa Non sto dicendo Alcuni che sappiamo le storie Non voglio parlare di qualcuno È un problema generale Da duemila anni Non è un problema di ora Ragazzi È un problema generale Da hace duemila anni Mi dovresti ringraziare Per i ragazzi O il ragazzo fa sessant'anni In grazia di Dio Alla prossima settimana Questa settimana No, la prossima Questa 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 è il primo giorno Della settimana Detto questo Se si comincia Con queste domande No è bellissima La scena è bellissima La busta Via Perché se mi fa la domanda Se mi facciano questa domanda Devo il sopra E salgo corriendo È questa la decima Tua E se è tu diesmo Pastore Maria Aiuto Aiuto Mi padre No perché la pastora So Tutti i trammini Tutte le storie Invece no L'Elisa Non hanno risolto Questo problema Al grossetto So che non c'è Questo problema Al grossetto No Noi vogliamo Quella chiesa È bello Mi vedi preoccupato No Non sono preoccupato Realmente Perché ringrazio Il Signore Che nonostante Ce l'abbia detto Tante volte Mi ha approfondito Questa cosa Le doy grazie al Signore Perché nonostante Lo abbiamo parlato Muchas veces Mi ha approfondizzato In esto Mentre Ero lì in ritiro Chiariamo Ho detto vai Oh come glielo dico Mentre io stava In il ritiro Io le dice Signore E ora Come le voy a Decir Alla Iglesia Argumento Donare Oh per carità Gesù Ma io ve lo ripeto Siamo ancora lì Però io se lo repito Aún estamos lì Io voglio E siate veramente Libri Libri nell'ospitalità Libri Che possiamo Dormire sul divano Abrazzati Nell'amore del Signore Eh ma dice Ma poi mi alzo Con le nocciole La mattina Eh prega 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 Il tuo fratello E la tua sorella Sta tranquillo Sparisce subito Se ti adormio Sul divano Ma chi se ne importa Ma che cosa bella Che i fratelli Morino assieme Non è un peso Non c'è da lavorare Ma siamo qua Se no che si fa Solo parole E dove è la potenza La potenza Non è parole È manifestazione Capito Le parole Le parole Voi mi dite Ora bene Male Ame Non ame Ma che dice E poi si va a casa Che parola E poi rimane Tutto così Riporda Il mese dopo C'è da ripagare L'affitto E indietro E la cosa E quell'altro E quel povero E quel povero Non può andare Non puoi aiutarlo In più Perché manca soldi O aiuto il povero O pago la bolletta E volvemo allo Mismo O aiuto il povero O pago le cose De mia casa Se no attacco il povero Alla corrente E risolto il problema Guardami ridere Amore del Signore Qualche soluzione Ma siamo sempre lì Poi Sempre siamo lì No io vi faccio ridere Ascoltate attentamente Io non voglio Non mi interessa Il vostro giudizio Non voglio più Avere paura Di parlare di certe cose Io prego Io prego Io prego Signore tu mi provvedi Signore tu me proves Per andare in missione E per mandare in missione Gli altri E per mandare in missione Gli altri Tu Tu Ricevi Un'eredità Un'erenza Di 300 mila euro Di 300 mila euro Faccio esempio Magari Alleluia Alleluia Che sia una profezia Che sia una profezia Ricevi un'eredità Di 300 mila euro Recibe un'erenza E non dai la decima E non dai il diezmo Quella decima Ese diezmo Sarebbe stata la risposta Per me Per andare lì Per andare lì Per andare lì Per andare lì Non vado E prendere i supermercati E prendere tutte le robe Tutti i giorni Per dire Distribuirle Oppure Tu vendi Un tuo terreno Un tuo possedimento E depositi Per il denaro Nella chiesa Che servirà Per comprare Da mangiare Per i prossimi Dieci anni Per 300 famiglie Quindi da chi dipende Da Dio Quindi da chi dipende Da Dio Da noi De nosotros Della libertà Perché chi ha paura Non è perfetto nell'amore Ma chi ama Ed è perfetto nell'amore È veramente libero Abbiamo di che riflettere Però Atenzione Perché delle volte Rimaniamo lì A riflettere Però attenzione Perché a veces Quediamo lì A riflettere E riflettere E riflettere E riflettere Poi Dopo un po' E dopo un po' Andiamo in ritiro A riflettere Poi scendiamo Ho riflettuto tanto E ora ho veramente Un nuovo tempo Per riflettere E ora tengo De verità Un nuovo tempo Per riflettere Vi faccio ridere C'è da piangere Perché bisogna alzarsi Levantate Risvegliati O tu che dormi Levantate O tu che duermi Perché il regno di Dio Non consiste in parole Vedete Tutto quello È stato detto In queste due ore e mezzo Può essere condiviso O non condiviso Può essere Compartito Come no Può essere vero O non vero Può essere vero È lo Spirito Santo Che ha parlato Sì Abbiamo discernimento Sì Abbiamo discernimento Riteniamo Quello che è buono Tomemo Lo che è buono Stando attenti A che si ritiene Come buono Ma comunque Sono due ore e mezzo Di parole Ma non è potenza Anche se è rivelato Per la potenza Anche se è rivelato In il poder La potenza Non sono parole Il poder Non è palabra Sono fatti Sono hechos Infatti In hechos Nella prima chiesa In la prima iglesia Non c'era alcun bisognoso Non c'era alcun bisognoso Non c'era alcun bisognoso Infatti In hechos Chiunque aveva Chiunque aveva Case e poderi Li vendeva Hecho e Podere lo vendia E portavano E ricavate Ai piedi degli apostoli E dava lo che Ganavano A los pies De los apostoli Infatti Infatti Nella prima chiesa Nella prima iglesia Non c'era alcun bisognoso Ma pensate fra di noi Tutti noi Ciò che abbiamo Quello che abbiamo E quello che non abbiamo Quello che è in più E quello che è normale Se abbiamo questa libertà Voi potete immaginarvi Che evangelizzazione Accade a Firenze Quale centro di accoglienza Per vedove e bambini Disadattati Centro per drogati Alcolizzati Faccio un esempio Vai Lorenzo Vai Lorenzo Semina Raccogli E cosecha Risemina Volvi a sembrar Fai prosperare il tuo prossimo Fai prosperare quel povero Fai prosperare quel ministro Fai prosperare quella chiesa Fai prosperare la chiesa Fai prosperare la chiesa Tocca a me Stanno operando in tutta la chiesa Stanno operando in tutta la chiesa nel mondo In i tuoi figli In i tuoi discepoli E anche quello che tu stai facendo Anche nel piccolo In mezzo a noi Il desiderio è quello ancora Di vedere la tua gloria Di vedere la tua chiesa Prosperare Spiritualmente E materialmente E grazie Padre Per come ancora tu ci parli Per mezzo di Gesù Cristo Il nostro Salvatore E per mezzo dello Spirito Santo Nell'amore Grazie Abbiamo bisogno ancora Abbiamo bisogno ancora Signore Grazie per la restaurazione Del donare d'amore Della libertà E anche la condivisione Della libertà e dell'amore Negli uni verso gli altri Dando ancora un nuovo Tempo Dillo stesso messaggio eterno Del regno dei cieli Come sta scritto Si è fatto in terra Quello che è fatto nei cieli La tua volontà La tua opera Come hai ancora ricordato stamani Signore Osservare i tuoi comandamenti Che non sono gravosi Ti chiediamo perdono Padre Per ogni ribellione Paura Chiusura Giustificazione Religiosità Che abbiamo spalmato di religione E di spiritualità Quando non è Ti chiediamo perdono Padre Nel nome di Gesù Io te lo chiedo per me stesso Per primo E anche per tutti i fratelli e sorelle Che tu hai fatto diventare figli tuoi Grazie per come ci liberi E per come ci insegni E per come ci insegni nel tuo regno E per il tuo regno Grazie per ogni principio spirituale Grazie per ogni principio spirituale E per come ci insegni nel nome potente di Gesù Amen Amen Noi che ascoltiamo queste cose Come dice Gesù Siete beati se le fate Non benedetti Beati C'è stata una parola anni fa su questo La differenza fra essere benedetti e essere beati Possiamo fermarci a essere benedetti Se no possiamo entrare nelle beatitudini Grazie a tutti